buongiorno siamo al bagno rosalba è il 19 marzo e stiamo allestendo per la preparazione per l'estate il solare ora andiamo a vedere questa struttura no stupendo al bagno rosalba questa è da qua abbiamo la centrale aspettacolare qua stiamo ancora lavorando andiamo e montiamo su le scale abbiamo un impianto suare una generazione attività corzata dal bagno rosalba questo è il mare di marzo il 19 marzo pensa di papà abbiamo anche Luca che saluta vi saluto Rocca Sistanzi Idric di Bollastini di Gampiero e la Rodine Vista vi saluta ciao ciao